Siamo nella ricevitoria Lachi Caffè a Casteldario in provincia di Mantua. Io sono la signora Cagnata Roberta, la titolare della ricevitoria. Questa mattina ho scoperto dal terminale che nella giornata di ieri era stata vinta una casa, col vinci casa. La vincita consiste nel 200.000 euro in contanti subito e 300.000 in acquisto di case nell'arco dei due anni. Il totale della vincita è 500.000 euro. La vincita è stata fatta con una schedina da 2 euro, giocata ieri. Presumo non sono tante le giocate. Auguro tanta fortuna al vincitore o alla vincitrice.